Buongiorno ragazzi, pochi ragazzi e benvenuti in questo nuovo video in cui volevo parlarvi di ciò che è stato il derby della Lanterna Volevo parlarvene in un video a parte perché è stata una partita molto bella, molto anche importante per quanto riguarda le due squadre, i diffusi delle due squadre E poi mi sono divertito particolarmente a vederlo Derby molto molto bello, pensate che, posso dire che ci sono stati tre gol, due traverse prese dal Sampdoria, due traverse prese dal Genoa, un gol annullato al Genoa Una golla in technology che è swampata da sola, ma dopo ne parleremo La Sampdoria, c'ho da raccontare, c'ho da dire tre cose ben precise, ma la prima è piuttosto un racconto Il racconto di cosa sto parlando ovviamente di Pugioni Pugioni per chi non lo sapesse è un tifoso della Sampdoria da sempre, da tutta la vita E ha avuto l'opportunità, l'onore di debuttare in maglia blucerchiata a 35 anni in un derby Che è tanta roba sinceramente, vincendolo peraltro, quindi molto buono Poi volevo dire, come dico da diverse settimane, non capivo perché Bruno Fernandez non giocasse mai da titolare Perché quando viene impiegato, specialmente se viene impiegato nel suo ruolo naturale, ovvero quello del trequartista Fa praticamente sempre bene, finalmente è stato messo trequartista e è stato praticamente lui l'uomo in più per la Sampdoria L'uomo in più diciamo che fa la differenza, anche se comunque l'uomo partita per la Sampdoria, se devo fare un nome, è Luis Muriel Muriel ragazzi è veramente un giocatore clamoroso, cioè è un giocatore che fa la differenza Il problema è che è discontinuo Se Muriel riesce a trovare una certa continuità per me può tranquillamente ambire ad una big squadra Dipende tutto da questo Ovviamente bisogna vedere Io spero per lui che riesca a trovarla perché sono tipo 5 anni che ogni volta parte a razzo, parte a bomba le prime 10 partite E poi praticamente implode Per quanto riguarda il Genoa, Perin ovviamente gioca sempre molto bene Il Genoa non ha demeritato assolutamente, per me ci stava meglio forse un pareggetto O comunque Perin è riuscito anche a parare un rigore, prima non l'avevo citato fra le occasioni, ha parato un rigore Che peraltro lui stessa l'aveva procurato Cioè pensate tipo Perin ha affossato Quagliarella, hanno dato il rigore alla Sampdoria Quagliarella ha battuto e se l'ha fatto parare da Perin Quindi praticamente nessuno aveva niente da farsi rimpiangere Mi ha impressionato Ninkovic che quando è entrato ha messo a ferro e fuoco la difesa Sampdoriana Centrocampo molto buono, lo dico perché ce l'ho al fantacalcio Ma comunque veramente si è comportato molto molto bene Poi che c'ho da dire? C'ho da dire che il ciolito Simeone ha una grandissima personalità Ora bisogna vedere come si comporta, però ha una personalità veramente molto grande Adesso dubito che riesca a trovare una certa continuità Visto che è tornato anche il pavoloso Pavoletti Pavoletti è veramente fortissimo, appena è tornato subito ha fatto vedere grandissime cose È andato molto spesso vicino al pari, ha giocato molto bene Sono molto orgoglioso di Pavoletti Che se in questo modo potrebbe tranquillamente guadagnarsi la qualificazione al Mondiale Quello sarebbe veramente l'ultima sua chance Perché poi se faccia anche una certa età Pavoletti si spiega a 28-29 anni Al Mondiale ce ne avrà già 30 o 31 Successivamente all'Europa è difficile Però penso che con una continuità del genere lui e Belotti Rientreranno in quella novera di attaccanti che farà parte della spedizione mondiale Concludo col dire che Il Genoa che sognava l'Europa frena quindi in questo modo La Sampdoria ricomincia Faccio i complimenti a Giampaolo che trova la vittoria nel derby E diciamo si salva anche il culo Perché la Sampdoria aveva messo un po' sulla graticola Giampaolo Sì se vedete che è apparso una persona alla mia Adesso state tranquilli Non era nessuno Comunque a parte questo Invece comunque faccio complimenti a Juric Ma deve stare calmo Non è possibile che continui a prendere rossi su rossi Espulsioni su espulsioni Non parlo del derby ma parlo precedentemente E' più le partite a cui ha assistito Juric Che le partite a cui non ha assistito Quindi è meglio così Concludo con la golla in technology ragazzi E' vibrato perché non lo sapesse L'orologio all'arbitro Quando una palla era vistosamente non entrata Cioè una palla ha preso la traversa fuori Ma proprio fuori 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 Dei 3 metri 4 metri Fuori tantissimo E adesso è vibrato il braccio Quindi sono stati fermi un po' Un attimo di panico Ora vi voglio sapere perché è vibrato Quel braccialetto Non riesco a capire quell'orologio Quel che è Ragazzi mettiamo a posto queste cose Perché se veramente vogliamo mettere La tecnologia in campo E poi succede questo schifo E' un problema serio E' tutto questo ragazzi Questo video sul derby della lanterna Che per me meritava Finisce qui Se vi è piaciuto ovviamente lasciate un like Se vi è piaciuto un dislike Vi ringrazio per la visione Buonasera E condividete il video se vi è piaciuto Iscrivetevi al canale se ancora non l'avete fatto E ci vediamo ad un prossimo video Buonasera Buonasera